Il confronto con gli altri artisti è fondamentale. Purtroppo io vivo in una località abbastanza isolata, ma ciò nonostante. Purtroppo nella mia vita ho avuto dei rapporti artistici, intellettuali, umani con altri artisti. Però gli artisti si scelgono, cioè sento che non riuscirei ad avere un rapporto con un minimalista. Sento che non mi riuscirebbe o quantomeno sarebbe molto difficile. Questo non per dire che ci si confronta sempre con gli artisti che ci somigliano, ma che i mondi sono talmente, sideralmente lontani, per cui è difficile rapportarsi.